È un percorso duro quello dell'adozione? Sì, sì, è un percorso duro, insomma si scava molto in profondità, lo trovo giusto, un po' esagerato diciamo, si fa un po' troppo a fondo e la coppia viene messa a dura prova, ecco. Tra l'altro voi avete avuto anche dei medici che vi hanno consigliato la fecondazione assistita? Sì, praticamente tutti i medici che abbiamo incontrato nel nostro percorso, a parte qualche raro caso, hanno cercato di spingerci verso la fecondazione assistita. In alcuni casi anche vedendo, insomma, che noi abbiamo detto che per principio comunque siamo contrari, non ce la sentivamo, siamo stati trattati un po' anche duramente, insomma. E spingono verso la fecondazione assistita, adesso verso la fecondazione eterologa, come se fosse una passeggiata, quando invece io so che non è una passeggiata e forse è un percorso che mette ancora più alla prova rispetto al percorso adottivo. Tu come hai visto il fatto che le regioni si sono subito organizzate per attuare poi la fecondazione eterologa con la previsione appunto di stanziare dei fondi, insomma, si sono attivate subito? Sì, è stato frustrante perché c'è una velocità diversa, ho visto, gli enti per l'adozione sono anni che chiedono una legge nuova, uno snellimento, un aiuto per le coppie che desiderano dare una famiglia a un bambino e se lo vedono negare. Quando si tratta di eterologa e quindi penso io, legata a dei guadagni per delle persone, la velocità aumenta nel giro di poche settimane, si tirano fuori linee guida e soldi che prima non c'erano. E tu vedi anche un modo diverso di approcciarsi, anche il discorso dell'anonimato ad esempio? Sì, il discorso dell'anonimato a me interessa molto, nel senso che per l'adozione, e lo trovo giustissimo, ci viene insegnato, ci viene spiegato che il bambino ha diritto a conoscere le sue origini per crearsi una sua identità, quindi tutte le informazioni di cui noi siamo in possesso dobbiamo riferirle al bambino quando sarà il momento. Per quanto riguarda l'eterologa invece esiste l'anonimato del donatore, quindi lo Stato dice due cose diverse, a me dice una cosa, a chi vuole accedere all'eterologa ne dice un'altra. È importante o non è importante questa identità del bambino?